Questa mattina i militari delle Fiamme Gialle hanno festeggiato il 243esimo anno della Fondazione. A Macerata la cerimonia si è svolta nel piazzale della caserma Livio Cicalè in Viale Indipendenza. Erano presenti il sindaco di Macerata Romano Carancini, il prefetto Roberta Preziotti, il questore Giancarlo Pallini, il colonnello Stefano Di Giulio, comandante provinciale dei Carabinieri, il presidente della provincia Antonio Pettinari, il comandante dei Vigili del Fuoco Achille Cipriani il presidente della Croce Rossa Rosaria del Balzo Ruiti, il presidente di Confindustria Gianluca Pessarini. Nel corso della cerimonia sono stati consegnati gli attestati ai finanzieri presenti che si sono distinti nella loro attività. Il colonnello Amedeo Gravina, comandante provinciale della Guardia di Finanza, nel suo discorso ha ricordato che un anno fa, da poco arrivato in città, aveva promesso che avrebbe cercato di ottenere il massimo impegno da ognuno dei 200 finanzieri in provincia. Una promessa mantenuta specie la notte del 26 ottobre 2016, quando dopo le scosse di terremoto molti finanzieri hanno chiesto di rientrare in servizio per raggiungere le zone più colpite. Il loro lavoro ha consentito, come ha sottolineato Gravina, di raggiungere alcune delle frazioni che erano rimaste isolate e di trasferire inoltre tutti i detenuti nel carcere di Camerino. Confermiamo il massimo impegno, ha dichiarato il colonnello, a proseguire nel percorso di prevenzione e contrasto ad ogni malaffare di natura economico-finanziaria. Sono 243 anni che siamo sul territorio, ma non ci sentiamo vecchi, anzi, siamo più giovani che mai. L'impegno qui a Macerata è stato tantissimo, è stato funestato anche dall'impegno notevole sul terremoto, abbiamo fatto il nostro in maniera rigorosa, in maniera discreta soprattutto, abbiamo collaborato in sinergia con le altre forze di polizia e l'esercito impegnato per il controllo del territorio. Adesso la prospettiva è un'altra, la prospettiva è dinamica, cercare di far sì, di fare uno sforzo corale, comune, ma noi soprattutto, che siamo ovviamente polizia economica e finanziaria, fare di tutto e di più per impedire che ci siano possibili infiltrazioni malavitose. Ecco, questo è il nostro impegno per l'anno corrente e per il futuro prossimo immediato. Nei primi cinque mesi del 2017 sono 78 le indagini aperte per evasioni e frodi fiscali, 63 le persone denunciate per reati fiscali, 41 gli evasori totali scoperti che, pur avendo attività produttive, erano sconosciuti al fisco. Un milione e 500 mila euro sono stati sequestrati per reati fiscali, mentre sono state proposte richieste di sequestro per oltre 6 milioni. Per quanto riguarda le frodi sui fondi pubblici e l'illegalità nella pubblica amministrazione, sono stati 22 gli interventi nel comparto dell'anticorruzione, 10 nel comparto appalti, 16 in materia previdenziale. Nel contrasto al finanziamento, al terrorismo, sono stati volti 182 controlli a esercizi commerciali che forniscono il servizio di money transfer, con 63 persone identificate, di cui 52 extra Unione Europea. In cinque mesi sono stati sequestrati oltre 12 chili di stupefacenti con 15 arresti. In materia di contraffazione e tutela del Made in Italy sono state denunciate 19 persone e sequestrati 220 mila articoli.